Mamma mia che sta succedendo, mamma mia santa, stai andando a prendere le polizioni, madonna mia, ui madonna quello che c'è questa cosa, madonna mia, madonna mia santa, questa è una rivoluzione, ho una macchina, ma mi stanno buttando il vetro, il vetro è buttato, la faccia Oh, come on, come on! Vabbè, 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 vabbè.